Walter Skluver presenta Leggi d'Italia in Pratica Notaio, più atti meno parole. Solo un notaio sa veramente cosa serve ad un notaio per svolgere al meglio il proprio lavoro. Per questo, in collaborazione con autorevoli studi notarili, Walter Skluver ha creato In Pratica Notaio, la prima soluzione online completa, operativa e costantemente aggiornata per affrontare tutte le fasi dell'attività professionale. In un'unica soluzione, le cinque aree di competenza notarile, organizzate in guide pratiche con contenuti esclusivi d'autore che evidenziano gli aspetti problematici, le questioni aperte, i punti controversi e le relative soluzioni. Con In Pratica Notaio avrai tutte le risorse informative necessarie. Così, In Pratica Notaio ti indirizza nell'impostazione dell'atto, ti orienta tra la normativa, la giurisprudenza e la dottrina, ti supporta nella redazione dell'atto e ti guida negli addentimenti previsti, anche fiscali. Affronterai con sicurezza anche le questioni più controverse, come la donazione di una quota indivisa di un immobile, migliorerai il livello di servizio al cittadino e l'efficienza dello studio, reperendo rapidamente tutte le informazioni utili, ad esempio sulla trasformazione di una società per azione. In un click, lo schema riepilogativo ti fornisce la soluzione e i collegamenti a tutte le risorse informative, come il commento agli articoli del codice, gli stralci degli studi CNN, gli articoli delle riviste di settore al riguardo, la legislazione e la giurisprudenza di riferimento. Sarai guidato in tutte le fasi della pratica, dalla prima ricerca fino all'archiviazione dell'atto e agli agempimenti fiscali, ad esempio sul trattamento fiscale dell'agevolazione prima casa sulle pertinenze. In Pratica Notaio, la prima soluzione online creata dai Notai per i Notai. In Pratica Notaio